voilà voilà eccoci qua cari amici della mia vita spaziale oggi una puntata dedicata alla formazione personale che durante l'estate può essere davvero il momento buono scopriamo insieme come subito dopo la sigla la mia vita spaziale come il digital può trasformare in meglio la tua vita il tuo lavoro idee strategie consigli a cura di andrea brugnoli eh sì è estate ed è il momento in cui ci si riposa in cui si fanno tante cose in cui possiamo dedicarci un po a noi stessi ed è proprio il momento migliore per investire sul nostro futuro e sulla nostra produttività ed è per questo che oggi voglio proporti una piattaforma molto molto carina tutta in italiano che ti presenta dei corsi e cosa servono i corsi servono per formare se stessi per avere quelle competenze che ti permettono poi di utilizzarle durante tutto l'anno per tutto quello che hai da fare sia nel marketing per non so per la comunicazione per i tuoi siti per tutto quello che ti può essere utile per le tue attività ma perché no anche per il tuo tempo libero ebbene questo sito che voglio consigliarti forse non lo conosci si chiama lacerba l'indirizzo è lacerba punto io trovi il link nel sempre nelle note dell'episodio dove trovi tanti altri link che ti consiglio di cliccare perché sono tutti strumenti utili e sono tutti strumenti utili e anche lì puoi lasciarmi per esempio un bel like sono tutti strumenti molto utili che ti possono servire bene questo sito presenta un ricco catalogo di corsi online ci sono naturalmente dei corsi a pagamento ma ci sono anche dei corsi gratuiti per esempio tra i corsi a pagamento crea il tuo primo sito web da zero oppure brand storytelling e digital copywriting e oppure che ne so come diventare programmatore di java è un linguaggio molto molto usato soprattutto per le applicazioni ma ci sono anche tanti corsi gratuiti per esempio ti consiglio introduzione alle strategie di ricerca del lavoro online corso addirittura di due ore 26 minuti gratuito e oppure un corso di user experience design quindi che ti permette di imparare i fondamentali della user experience per applicarli al tuo sito oppure che ne so un'introduzione al design thinking come fare innovazione significativa all'interno della tua azienda attraverso un processo che si può attuare oppure per esempio un corso di grafica online gratis insomma può essere l'occasione per imparare tante cose per esempio che cos'è la programmazione un corso su google ads se vuoi fare pubblicità su google imparare puoi farlo e qui trovi davvero una miniera incredibile tra i tanti c'è anche un corso online che è il tuo primo podcast per esempio se vuoi fare un podcast insomma ce n'è per tutti i gusti una piattaforma molto semplice molto bella che puoi mettere in cantiere così durante la tua estate magari di seguire uno di questi corsi durano poche ore quelli gratuiti quelli a pagamento magari sono un po di più e però corsi che ti possono essere utili per tutto quello che tu hai da fare per il tuo lavoro la cerba punto io è un sito molto utile per acquisire nuove skill e per far crescere il proprio business con corsi proprio dedicati a te bene anche questa puntata estiva è terminata così volevo offrirti qualche consiglio ma dedicherò prossimamente una puntata a tutti i podcast che io ascolto durante l'estate perché così mentre si è anche sotto l'ombrellone niente di meglio che ascoltarsi un bel podcast oppure mentre si sta viaggiando in aereo per andare nella località della vacanza quindi stai sintonizzato sempre sulla mia vita spaziale ogni settimana alle 7 del mattino ogni sabato troverai il tuo podcast preferito per rendere la tua vita sempre di più spaziale la mia vita spaziale come il digital può trasformare meglio la tua vita il tuo lavoro a cura di andrea brugnoli